It could be us, so that's what I would say It could be us, say cool Eeeh, bello a tutti ragazzi, oggi siamo in un nuovissimo video show Incro-onde Yeah Allora ragazzi, oggi volevamo parlare un po' Eeeh, si, volevamo parlare Volevamo parlare Si, volevamo parlare perché La mini telecamerina Si, vabbè, abbiamo capito Ah, volevamo parlare Allora, vi chiederete perché siamo sudati Abbiamo fatto un video su una partita di calcio che però è durato troppo 20 minuti Voi vi sarete rotti con gli uomini Si, infatti Ecco Quindi lo rifaremo da 5 No, minuti, che arrivi a 5 Ecco Allora, volevamo parlare di... perché noi... Volevamo dire perché non siamo stati... Non facciamo più video, cioè abbiamo bisogno... Cioè, non... No, per sempre Ah, ragazzi Faremo un vlog... no, non lo dire Ci sarà un vlog specialissimo Lunedì In un posto speciale Cioè, noi lunedì faremo il vlog e forse uscirà martedì o mercoledì Lo farò uscire io Però comunque state sempre aggiornati State aggiornati Oggi, raga, io devo andare via alle 6, sono le 5 Dobbiamo fare un macellissimo di video Questo è un mini vloggetto Per quando ci si ricaricano le vite su un gioco Che noi vi lasceremo dopo questo mini vloggetto Cioè Ma lo posso dire cosa facciamo? No No, è una sorpresa Sorpresa Sul titolo ci metteremo Sorpresine Vlog Speciale Poi loro dalle immagini capiranno Vabbè Non andremo a me di ciotta Vabbè Perché sto facendo così Comunque Vieni qua Noi ci vediamo Questo vloggetto è finito Era solo per gli aggiornamenti È stato un po' breve Però dopo col video di Di Trivia Crack Kingdoms Ci rifaremo Noi ci vediamo Al prossimo video Bella Bella a tutti ragazzi Oggi siamo in un nuovissimo video Su Eh? Su Trackmania Kingdoms Madonna come l'ho detto Mi si sta vedendo Nella tua camera Allora Faremo le domande Su I mails Intanto Come starete vedendo I simcath I canali seguiti Non sei connesso a internet Come? Come? Ci abbiamo messo 4 anni Per rimettere la passo Infatti Aspettate Come? No No dai No ti prego No Ci rivediamo Quando La connessione Ci funzionerà Ok Connessione ristabilita Stavolati Andiamo su Mates Italia 1900 domande Qualità oro Vabbè dai 140 Vabbè Via Una vita io E una vita lui No Non una domanda ciascuno Ok Gioco adesso Domandina Rispondi correttamente A una domanda Per quanto non giocare Come si chiama La ragazza di Sterli Questa è Io sono bravissima Sui miei Domandina Tutte domande Chi è stato il primo a conoscere Vegas? Scusi? No 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 Klaus 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 Sì ma Klaus non c'entra nei miei Stephanie Cazzo però Aspetta Adanacelo Ariatelo Ragazzi Sono dei difetti Era andata via Poi era ritornata Continuando Il primo a conoscere Fingamento Chi è il più vecchio tra loro? Più vecchio? Dai Tito Quanti animali ha Stephen? Un cane e un gatto? Sì vai Due Tre Quelli R Sotto Mio Che sono Che è stato buono No Chi è il cuore toro dei mei Vabbè? 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 Proviamo a Sury. Vai! Sury! Vegas! No! Perché papà? Niente ragazzi. Vabbè adesso tocca a Matteo. Tu tocca a me. Sì, perciò sta facendo. Adesso vediamo un po' cosa scura la vita. No, sempre me. No, dai. Sì. E' sui me. Io non so niente su me. Vai. Giochiamo. 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 30 anni che hai. Allora. Quella la la ti prendo sempre. Ma che è questo? Quindi ha corretamente domande su tre. Qual è? il nome della fidanzatura? Bumfy. Bumfy. Gatti. Chi è il più anziano? Eh, sempre. Vai. Vai. Bumfy. 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 Qual è il vero nome di Al? No, ha scritto con la C. Te lo stavo per dire. Cosa hai sbagliato? Devi guardarli tutte le domande. Cosa hai sbagliato? Cosa hai sbagliato? Cosa hai sbagliato? Dai, non lo avevo. Se non lo trovo io faccio un culo così. Quello che ha fatto la domanda. e quindi il gioco ha finito qua abbiamo finito due vite come... aspettate adesso vedete molto la camera vedete? zero vite tra 25 minuti non avremo un'altra ora stoppe un attimo dobbiamo parlare